Illumina il Natale di Creatività, terza edizione a Cepagatti, Annalisa Palozzo, assessore del Comune di Cepagatti, terza edizioni, quali le novità? Abbiamo voluto realizzare questo concorso aperto a tutta la cittadinanza, ma non solo, la novità è che ci apriamo anche agli esercizi commerciali e alle istituzioni scolastiche. Il premio è giunto alla terza edizione, ogni anno abbiamo un numero crescente di iscritti, ci auguriamo che anche quest'anno vada bene. La terza edizione vuole creare delle sinergie tra tutto il tessuto sociale, le associazioni che sono anche qui oggi presenti. Il concorso prevede la realizzazione di addobbi, che siano presepi, alberi, luminari, tutto sul tema del Natale e con particolare attenzione a quello che è il tema del riciclo, quindi premeremo in particolare maniera, prenderanno un punteggio più alto gli addobbi realizzati con materiale naturale e con materiale riciclato. Viste le attuali condizioni di tutti i comuni, di crisi economica, abbiamo voluto risparmiare utilizzando quelle che sono le forze locali, quindi stimoliamo i singoli cittadini e le attività commerciali ad addobbare essi stessi la propria casa, addombando la propria casa o il proprio negozio ci aiutano ad addobbare tutta la città. Chi sarà il più bravo verrà premiato.